Perché vale la pena partecipare alla parata della Festa della Repubblica? Perché quella del 2 giugno è la festa di tutti i cittadini e noi sindaci siamo onorati di rappresentarli e di rappresentare le istituzioni. Ero presente alla parata dello scorso anno ed è stata una delle più grandi emozioni che ho provato nella mia vita e lo sarà anche questa volta. Per questo parteciperò ancora più convintamente per onorare il mio Paese. I sindaci ci saranno e io ci sarò.